Vorrei dedicare un memore e partecipe pensiero, anche in questa occasione, al Presidente Emerito Renato Granata, mancato il 19 marzo scorso. Per l'intiero anno il Collegio è rimasto e ahimè tuttora rimane incompleto a causa della persistente mancata elezione da parte del Parlamento del successore di Giuseppe Frigo, dimessosi dalla carica già il 7 novembre 2016. Desidero pubblicamente e con forza rimarcare la gravità di questa circostanza, la quale ben al di là degli ambiti della correttezza costituzionale o di quelli di un rapporto doverosamente leale fra le istituzioni, nell'interesse della Repubblica e di tutti i suoi componenti, incide sul concreto assetto di un organo che concepisce e svolge la propria attività secondo un modulo autenticamente collegiale, il quale non può non risultare vulnerato quando, in un modo o nell'altro, se ne limiti l'effettività.